Musica Seconda giornata oggi a Berlino la frutti logistica, settore ortofrutticole in primo piano tra le aziende siciliane e ragusane presenti in fiera come il comune di Mazzarone e la sua rinomata uva da tavola. La formazione professionale è nuovamente nell'occhio del ciclone, la regione chiede la restituzione di 7 milioni di euro mentre la Corte dei Conti cita in giudizio ex assessore e dirigenti. Operazione dei carabinieri oggi sul litorale ragusano, rimossi cancelle e sequestrate in ferro e legno che impediscono l'accesso sugli arenili di Caucana e Punta Braccetto dopo la rimozione anche al sequestro. Musica E scontro sui nomi dei candidati sindaci ufficializzati dal Movimento Territorio in Vista e le amministrative di fine maggio per Fabio Nicosia di Megafono e una inopportuna fuga in avanti. Musica La zona industriale di Raguse è abbandonata all'incurio al degrado e i dati relativi ai dati commessi negli ultimi tre anni sono allarmanti e c'è chi punta l'indice accusatorio contro l'ex ASI. Musica Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Secondo giornata oggi a Berlino di frutta e logistica. A Berlino il settore ortofruttico naturalmente sotto i riflettori. Sono tante le aziende ma anche i comuni siciliani presenti. Tra questi c'è Mazzarrone e la sua uva. Le eccellenze siciliane in fiera Berlino in questi giorni capitale mondiale dell'ortofrutta. La MES Berlin ospita uno degli eventi di settore più importanti a livello internazionale. Tanti gli operatori ed espositori che da ogni parte del mondo si sono dati appuntamento alla fruit logistica per intessere nuovi e proficui scambi di lavoro e per aggredire la crisi che attanaglia il mondo agricolo. Anche le nostre telecamere sono presenti alla tre giorni insieme ad una delegazione iparina formata sia da figure istituzionali che da operatori del settore. Presente anche il comune di Mazzarrone con la sua uva, una delle eccellenze presenti in un mercato di nicchia e che punta alla qualità. Ancora una volta le eccellenze siciliane vengono riproposte sul tema mondiale per dimostrare che ancora oggi la Sicilia crede nell'agricoltura e crede nell'agricoltura d'eccellenza. Cerco, le speranze sono tante, gli obiettivi sono tantissimi, c'è bisogno di rinvolcarsi ancora una volta le maniche per poter essere presenti su tutti i mercati del mondo con tutte le problematiche che ovviamente oggi stiamo vivendo, da quella ovviamente della logistica a quello dei cari costi delle materie prime, a quelle che sono le problematiche di un territorio siciliano che è vessato ancora una volta da tanti problemi. Il comune di Mazzarrone è presente con la sua uva e con il suo consorzio tutela uva da tavola IGP, ma quali sono i rapporti che legano le due realtà? Per l'assessore serve maggiore unità. Le prospettive sono quelle innanzitutto di sensibilizzare i sei comuni che rappresentano l'IGP. Lei sa che il consorzio IGP dell'Uva da tavola è rappresentato dal comune di Comiso, Chiaramonte, Accate, Mazzarrone, Licodio, Bea e Cartagirone e che tale utenza, tale territorio rappresenta l'eccellenza. Quindi invito ovviamente a tutti i sei comuni di essere più presenti e dare un'iniziativa, un impulso a questo strumento che sicuramente potrà dare delle prospettive di crescita. La sinergia è quella che è stata attivata nei cinque anni passati dalla nostra amministrazione, non espronare le attività del consorzio, ma non solo cercare di promuovere sinergia, di promuovere sistema, di promuovere un marchio unico che possa dare un riscontro maggiore. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare e questo è quello che noi chiediamo ai sei comuni che appartengono all'IGP. Maggiore presenza, maggiore indirizzo a questo grande strumento che può essere valorizzato. Ma a Berlino si parla oggi anche di trasporto e delle tante difficoltà legate al trasporto viario. Noi abbiamo parlato con Giuseppe Biondo, presidente CAIR Vittoria. Produzione e trasporto, un binomio a cui la terra di Sicilia non può rinunciare. Vuoi per la conformazione geografica, vuoi perché le produzioni per raggiungere i mercati devono essere trasportate. A fruit logistica in primo piano anche il nodo trasporto e le difficoltà per le nostre merci di raggiungere i mercati del nord Italia ed in particolare del nord Europa. Con Giuseppe Biondo, presidente del CAIR di Vittoria, abbiamo affrontato il problema trasporto e cercato di individuare possibili soluzioni. Questa è una bellissima cosa, soprattutto per la nostra Sicilia e per il nostro paese, perché è il paese dove noi proteggiamo tutta questa merce. Bello, un grande incontro con tutti, ci possiamo vedere con tutti, possiamo scambiare ognuno le nostre idee. L'idea quella brutta è una sola, lo voglio far capire. Siccome noi facciamo dei trasporti, trasporti significa avere una bella produzione e un buon trasporto. Abbiamo delle bellissime macchine, abbiamo degli autisti capaci, abbiamo delle persone abbastanza in campo, però per le leggi europee che noi abbiamo, per la Sicilia è un grande disastro. Le autostrade del mare sono una delle soluzioni possibili, in tal senso sono state intavolate trattative e discussioni che potrebbero avere anche risvolti positivi. L'Italia purtroppo è stretta e lunga, non ci possiamo fare niente perché è questo qua. Abbiamo tutti quei chilometri, basterebbe che ci sarebbero delle nave, tipo Grimaldi, altre nave. Stamattina abbiamo avuto un contatto già con dei turc per un trasporto con le nave, perché oggi la Sicilia si deve trasportare con le autostrade del mare e che devono mettere un po' di testa anche i commercianti, i nostri collaboratori che la devono smettere con questi mercati dopo 10 ore, 12 ore, perché non è possibile? Perché noi possiamo fare solo 8 ore a stendo, possiamo fare la Calabria a stendo. L'opzione aeroporto di Comiso sarebbe l'ipotesi migliore, anche se i costi pare siano eccessivi, per non parlare delle perdite che subirebbe il trasporto su gomma. Ho solo le mie grandi perplessità perché già abbiamo avuto degli incontri all'aeroporto da Comiso che i costi sono abbastanza eccessivi. Non penso che giustamente si potrebbe fare, perché si parla con i cargo, con le cose, almeno per quello che ci hanno detto le case di spedizione dal nord, ci vorrebbe circa un euro al chilo di trasporto. Non lo so se è competitivo. Voltiamo pagina, ma restiamo proprio sull'aeroporto Magliocco di Comiso, ma soprattutto sul suo mancato inserimento nel piano nazionale del ministro Passera. ne abbiamo parlato col presidente di SOA, con Rosario Di Bernardi. Oggi l'onorevole Di Giacomo, la mozione presentata dall'onorevole Di Giacomo Proda a Lars, se ne discute proprio questa mattina, ci sono degli spiragli per far sì che il Magliocco venga inserito nel piano nazionale degli aeroporti? Non è che ci sono degli spiragli, ci devono essere, perché è diversa la cosa, perché dobbiamo contestare in toto il piano del ministro Passera, perché è stato fatto in fretta, è stato un piano elettorale e soprattutto è un piano che non ha uno studio dietro, quantomeno si è basato su uno studio europeo. Il fatto stesso che abbia anche deglassato Catania, perché non ha residenti per un milione di abitanti, quando già copre sette province, già questo spiega tutto il piano su cosa è basato. Il fatto che abbia messo Venezia insieme a Roma e Milano per ricevere finanziamenti, anche questo spiega il piano. Ma io non voglio criticare gli altri aeroporti, perché ne avremmo da dire anche sugli aeroporti che sono stati inseriti e che sta in rete, a cominciare da Salerno come sfogo per Napoli. Però il piano prevede da un lato un piano aeroportuale Catania-Comese, dall'altro Comese viene deglassato, anzi viene tagliato e Catania deglassato. Quindi è un piano che il governo regionale deve assolutamente combattere. Non ha senso, perché questo ci sta danneggiando anche con le compagnie, perché noi abbiamo già difficoltà tra le compagnie aeree. Poi, su tutti i giornali, il fatto che è un aeroporto che non avrà futuro, immaginatevi le difficoltà con la compagnia aerea. A questo punto viaggiano assieme le due stanze Catania e Comiso in questa battaglia? Ma almeno in questa battaglia non deve essere solo Catania e Comiso, deve essere tutta la Sicilia. Già il Presidente Crocette e anche i nostri deputati stanno lottando su questo. Quindi si preannuncia battaglia alla conferenza Stato-Regione e speriamo che non si riesca a fare questo piano, ma che venga adottato il piano fatto allora con studi seri, con studi che hanno inserito Comiso nel nuovo piano degli aeroporti, che ne prevedeva 42 e lo prevedeva come sistema aeroportuale Comiso-Catania. La formazione della Regione è nuovamente scossa da una bufera. Nell'occhio del ciclone finiscono ex assessori e dirigenti a citare questi ultimi in giudizio anche alla Corte dei Conti. Nuovo terremoto nella formazione professionale dopo che la Regione ha intimato 35 sigla a restituzione di 7 milioni e la Corte dei Conti citato in giudizio ex assessori e dirigenti. Una richiesta, 7 milioni appunto, sicuramente pesante per questi enti, che avrebbero ricevuto l'ingente somma per organizzare i corsi tra il 2007 e il 2009, soldi cui la stagante maggioranza degli enti non ha alcuna intenzione di restituire, visto che non ha ricevuto alcuna contestazione dagli organi di controllo. Siamo stufi di essere considerati dei malfattori, così incoro gli stessi enti, e per questo ci opporremo ad ogni richiesta di restituzione, e allora è ormai sodato l'inevitabile contenzioso con la Regione. Intanto la magistratura contabile ha citato, come detto in giudizio, anche 7 ex assessori e dirigenti, oltre all'ex Presidente della Regione Lombardo, che per un breve periodo mantenne la deloga proprio alla formazione. Sono tutti indagati per le integrazioni concesse dalla Regione agli enti di formazione professionale, un metodo che già costato la condanna all'ex assessore Mario Centorrino. Cronaca, operazione dei carabinieri sul litorale Ibleo, militari sul mandato della Procura hanno rimosso cancelli che impediscono gli accessi spiagge ai mezzi di soccorso. Il litorale Ibleo, reso celebre dalla fortunata serie televisiva del Commissario Montalbano, finito sotto il mirino della Procura della Repubblica, da ieri i carabinieri su delega del Procuratore Petrolia stanno effettuando un servizio di controllo nelle contrade di Caucana e Punta Braccetto, procedendo al sequestro e alla rimozione di diversi cancelli in ferro o in legno, che occludono le strade laterali e la litoranea che portano all'arenile. Il codice della navigazione vieta infatti categoricamente la possibilità di impedire a persone o veicoli di soccorso l'accesso alle spiagge, né con cancelli o catene che con gli anni sono spuntati come funghi, ma neanche parcheggiando autovetture o piazzando chioschi o quant'altro. L'indagine dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ragusa è iniziata con i controlli a tappeto dell'agosto del 2012. Adesso ha portato a questa prima tranche di sequestri, ma la vigilanza serrata dei militari continuerà nel corso della nuova stagione balneare. Due coniugi di Comiso sono stati arrestati dagli uomini della sezione volante della questura di Ragusa. Avevano manomesso uno sportello banco, ma rubando i soldi. Si chiama Cash Trapping ed è la nuova frontiera del crimine ai danni dei Bancomat. La squadra volanti della questura di Ragusa ha arrestato in flagranza di reato con l'accusa di furto aggravato mediante manomissione di sportelli Bancomat i coniugi Emanuele Botadoro, 41 anni, nato a Palagonia, e Daniela Giussi Guarino, 37 anni, nata a Ragusa. I due vivono a Comiso. Tutto è iniziato due giorni fa, quando un cliente di un istituto di credito di Ragusa ha segnalato al 113 di avere tentato di effettuare un prelievo al Bancomat senza riuscirci. La polizia si è quindi appostata nei pressi dello sportello per individuare eventuali movimenti anomali e infatti di lì a poco sono arrivati Votadoro e Guarino. I due davano poco nell'occhio, in quanto, come una normalissima coppia, si erano recati al Bancomat facendo finta di prelevare del denaro. In pochi secondi, però, e con grande abilità, hanno rimosso una bacchetta in alluminio con delle banconote attaccate sopra e si sono allontanati velocemente in direzioni diverse. Dopo pochi metri, però, sono stati bloccati dagli operatori della squadra volanti e ammanettati e con le successive perquisizioni personale e domiciliare è stato possibile rinvenire tutto l'occorrente per manomettere i Bancomat. Il denaro rinvenuto è stato riconsegnato al cliente che aveva segnalato il malfunzionamento ed il direttore della banca ha presentato formale denuncia per il reato subito. I particolari degli arresti sono stati resi noti questa mattina in Questura a Ragusa nel corso di una conferenza stampa servita al commissario capo della Polizia di Stato, Antonino Ciavola, anche ad invitare tutti coloro che dovessero notare anomalie ai sistemi Bancomat o Postamat ad informare tempestivamente il 113 e a recarsi in banca il giorno seguente per richiedere un accertamento sul conto corrente. Brutta notizia per i precari a Comiso. Il giudice del lavoro ha infatti ricertato il ricorso presentato da 39 lavoratori. Adesso l'unica speranza è quella di ottenere una proroga dei contratti sino a luglio. L'ultima speranza per i 47 ex CoCoCo del Comune di Comiso resta quella di ottenere una proroga dei contratti. Sino al 31 luglio prossimo il giudice del lavoro ha infatti rigettato il ricorso presentato da 39 lavoratori con cui veniva chiesta l'assunzione a tempo indeterminato così come previsto nei contratti di stabilizzazione firmati dagli stessi lavoratori nel dicembre 2009. Al termine di un triennio i 47 ex CoCoCo avrebbero dovuto essere stabilizzati ma nel frattempo sono intervenuti nuovi fattori come la legge Brunetta che hanno impedito le assunzioni. In pianta organica ci sono solo 8 posti disponibili che significa che possono essere sistemati 16 lavoratori a 18 ore settimanali o 24 a 12 ore. Questo lo si dovrà comunque stabilire insieme ai sindacati. Tutti gli altri lavoratori resterebbero invece tagliati fuori. Una bruttissima notizia anche per il sindaco di Comiso Giuseppe Alfano che sottolinea come purtroppo l'amministrazione comunale avesse ragione su tutti i fronti. Sarei stato più felice, ha detto il primo cittadino comisano a presa la notizia, se questa causa l'avessi persa. E siamo adesso alla gestione della piscina di Comiso al centro della conferenza stampa di oggi. Sindaco e assessore al bilancio hanno replicato a quanto dichiarato l'ex assessore Zisa. L'affidamento della piscina comunale è un altro miracolo dell'amministrazione comunale comisana. L'ha detto questa mattina il sindaco Alfano in conferenza stampa rispondendo ai dubbi mossi dall'ex assessore Zisa circa l'affidamento e ingestione dell'impianto. In questo modo è sottolineato invece il primo cittadino. L'ente non solo ha risparmiato i costi di per sé esosi di gestione ma i cittadini dell'interversante Ipparino possono adesso usufruire della piscina a prezzi che non sono per nulla esosi. Gli atti e le carte partono chiaro. Zisa ha preso una cantonata grande quando lo spiego del comune di Comiso. In realtà il comune ha fatto una procedura che si è articolata in ben quattro fasi. E la società che alla fine ha avuto l'affidamento della piscina non era stata mai invitata a partecipare alle quattro fasi quindi nessun tentativo di apparentarsi con chi che sia. Le quattro fasi, la procedura di gara aperta la procedura a negoziazione diretta la procedura negoziata privata non hanno ottenuto nessun riscontro da parte di quelli che noi avevamo invitati a partecipare. Abbiamo prima chiesto un prezzo di 20.000 euro poi l'abbiamo ridotto comunque abbiamo fatto un'offerta al ribasso abbiamo portato gli anni a nove e nessuno aveva mai manifestato intenzione di gestire la piscina. Dopo quattro tentativi questa cooperativa che non avevamo mai considerato ci dice che vorrebbero gestire la piscina che cosa faccio io da sindaco? A fronte di una gestione a costo zero per lente non affido la gestione della piscina non solo, questa cooperativa si è sobbarcata l'onere di anticipare oltre 100.000 euro di lavori che il comune avrebbe dovuto necessariamente fare prima di aprire la piscina perché bisognava fare una manutenzione strutturale straordinaria della struttura stessa come attestato dagli uffici comunali non certo dalla cooperativa che ha preso il computometrico fatto dai nostri tecnici e quindi ha anticipato i lavori li sta semplicemente scontando rispetto a quello che è il canone che avrebbe dovuto darci e alle bollette che dovrebbero essere già in capo alla cooperativa che sta gestendo la piscina ma che rimarranno in capo al comune fino alla concorrenza dei 100.000 euro perché è chiaro che non solo non si prendono un centesimo dal comune ma quantomeno non possono nemmeno rimetterci le spese. La procedura è di una trasparenza di una correttezza e di una pulizia assoluta evidentemente queste cose trasparenza, correttezza e pulizia non sono termini molto noti a chi scrive questi comunicati stampa. Amministrative politiche la scelta di queste ore da parte del movimento territorio di ufficializzare per le prossime appunto amministrative Giovanni Cosentini e Momo Carpentieri non è piaciuta ai vertici della lista Crocetta. Sentiamo. Una fuga in avanti che non può essere condivisa le scelte per le prossime amministrative che interessano Raguse e Modica con i nomi rispettivamente di Cosentini e Carpentieri già ufficializzati non sono state accolte con grande gioia dai vertici della lista Crocetta. Per Fabio Nicosia di Megafono infatti si tratta di fuga in avanti che non possono essere condivise dalle forze che lavorano per nuovi governi locali in grado di rappresentare tutti gli alleati. Poi l'ex consigliere provinciale del PD lancia un cano abbattuta sui due nomi lanciati da territorio affermando che sia Cosentini che Carpentieri si rivolgeranno ad essa ai loro sostenitori chiedendo di votare per Bersani come dire che due esponenti di centrodestra finiscono nello schieramento opposto. Da territorio intanto si ribadisce che la strada è tracciata che si chiama centrosinista visto che a Palermo Di Pasquale è vicina alla lista Crocetta e dunque al suo megafono. Per quanto riguarda intanto proprio Momo Carpentieri negli ambienti vicini all'ex assessore provinciale viene precisato come viene da una formazione socialdemocratica che si è mosso sempre nell'area del riformismo e che non ha mai guardato a steccati pur avendo militato in forse tale prima e nel PDL dopo. Zona industriale di Ragusa abbandonata all'incurio al degrado e i dati relativi ai reati che vi sono stati commessi nel triennio 2010-2012 sono allarmanti. E' la denuncia del Presidente del Parco Commerciale Isole Ible Giovanni Corallo che punta il dito contro l'ex assi. Sono allarmanti i numeri riguardanti i reati contro il patrimonio nell'area della zona industriale di Ragusa. A snocciolare i nuovi dati è il Presidente del Parco Commerciale Isole Ible Giovanni Corallo che dopo la diffida ha fatto partire nei giorni scorsi nei confronti dell'IRSAP ex ASI per le carenze nella pubblica illuminazione esprime il proprio rammarico sulla consistenza di cifre che la dicono lunga sullo stato di precarietà in cui versa l'intera area. Il fatto che la zona industriale sia immersa nelle tenebre e che l'impianto di video sorveglianza non sia mai entrato in funzione sono sicuramente due degli elementi che fanno gola a chi si reca alla zona industriale per delinquere e così negli ultimi tempi sono aumentati i rapine atti di vandalismo furti spiegolamento abusivo relativo soprattutto a materiali ferrosi rame e metalli vari i dati riguardanti i reati contro il patrimonio negli ultimi tre anni dal 2010 al 2012 dicono che sono state 63 le aziende prese di mira e 97 le attività criminose messe in atto con un'azienda del settore food presa di mira per ben 4 volte in 20 mesi i danni alle imprese del posto ammontano ad oltre un milione di euro nonostante il costante impegno delle forze dell'ordine il presidente Corallo rincara poi la dose abbiamo dovuto fare i conti anche con un vero e proprio affronto considerato che l'assi di Ragusa ormai confluita nell'IRSAP ha speso milioni di euro in tanti progetti ritenuti più importanti lasciando nel degrado più totale il primo nucleo industriale del capoluogo una scelta che non esitiamo a definire vergognosa dichiara dalle risposte che arriveranno da Palermo conclude ma soprattutto dalla rimozione totale delle criticità valuteremo se approfondire le responsabilità giuridiche di quanto è accaduto l'assessore alla Polizia Municipale di Vittoria Piero Gurriere replica le dichiarazioni rilasciate in queste ore da alcuni consiglieri comunali merita la mancata adozione da parte del piano urbano del traffico la questione afferma Gurriere era già stata sollevata con una interrogazione consigliare non c'è dubbio che l'aduzione tanto del piano generale del traffico che di quello appunto del traffico urbano costituisce un provvedimento obbligatorio ai fini di una corretta programmazione il primo è progetto preliminare diretto alla soddisfare complessivamente la domanda di mobilità ciò premesso per la redazione del piano rimarca a Gurriere necessario assegnare l'incarico a tecnici specializzati all'interno del lento esterni e occorre anche costituire un tavolo di lavoro oggi una delegazione di Emirati Arabi a Ragusa per avviare i scambi commerciali previste anche visite in alcune imprese di eccellenza del territorio operatori economici degli Emirati Arabi saranno domani in visita in provincia di Ragusa per avviare i scambi commerciali con imprese e aziende nel settore meccanico agroalimentare e turistico l'iniziativa costituisce una tappa importante di una più ampia missione siciliana promossa nell'ambito del progetto Paesi del Golf voluto dall'assessorato regionale all'attività produttive coinvolta nel progetto 42 aziende con incontri bilaterali di affari con 35 operatori arabi la missione era stata preparata mesi fa con incontri a Dubai e a favorire il successo degli incontri affermano i vertici di Confindustria Ragusa che ospiteranno la delegazione sarà il fatto che le imprese selezionate pur se di nicchia rappresentano eccellenza nei rispettivi settori che le distinguono alle forniture rispetto ai competitor tra l'altro proprio l'interscambio itali-amerati arabi è cresciuto negli ultimi anni triplicandosi nel periodo 2000-2008 con un avanzo commerciale positivo per il nostro Paese passato 1,7 miliardi a quasi 5 miliardi di euro obiettivo primario dell'iniziativa resta naturalmente quello di favorire uno scambio di conoscenze di nuove opportunità di business Calcio amichevole oggi pomeriggio a Comiso tra Verde Arancio e Ragusa test per entrambe in vista delle gare rispettivamente contro San Gregorio e Ribera Test amichevole oggi pomeriggio a Comiso tra le formazioni di Borgese e Anastasi in Casa Azzurra si respirare di attesa ma anche di immediato riscatto dopo le ultime gare contro noti Agropoli che non hanno smosso la classifica l'undici ragusano se la vedrà prossimamente contro il Ribera all'Aldocampo ma nel frattempo ha organizzato con la società Verde Arancio l'amichevole di oggi un tempo in conto di cartello essendo un derby molto sentito il Comiso dal canto suo deve pensare intanto a proseguire sulla strada intrapesa domenica nel match vittorioso contro il Mazzarà e per riuscirci deve evitare quelle distrazioni difensive che sono state letali nel corso della stagione sicuramente avara di soddisfazioni e il test di oggi contro un avversario di categoria superiore può essere per l'undici di Borgese un banco di prove importante oltre che utile per ripassare e mettere a mente le buone cose fatte vedere domenica scorsa in campionato Eccellenza adesso sfida dal sapore antico quella che si avvicina domenica al comunale tra Vittoria e Novegea test severo per i Biancorossi all'inseguimento dell'Orlandina Esame per le due battistrata domenica in eccellenza l'Orlandina Mazzarà cercherà di mantenere l'attuale distacco di tre punti dal vittorio e possibilmente allungare i Biancorossi invece sperano in un'impresa dallo stesso Mazzarà ma allo stesso tempo devono pensare alla Novegea cliente particolarmente ostico di questi tempi una squadra quella giallorossa partita al rallentatore poi ad un certo punto ha ingranato la marcia fino a sfiorare il primato da qualche settimana invece ha perso smalte brillantezza alternando risultati contraddittori e che fanno pensare ad una squadra dai due volti il vittorio deve però cercare di conquistare i tre punti per rimanere attaccata alla ruota della capolista e sperare appunto in qualche notizia positiva da Mazzarà tre giallorossi domenica affrontati in stagione per la quarta volta compresa la Coppa Italia c'è anche da tenere sotto occhio Frisenda attaccantino più giovanissimo ma che ha un feeling in particolare con le porte avversarie un pericolo in più per la formazione di Campanella arrivato ormai allo snodo cruciale della stagione e dove ogni piccolo errore potrebbe costarcare se repilogo dei fatti in primo piano seconda giornata a Berlino di frutti logistica settore ortofrutticole dei trasporti in primo piano tante le aziende siciliane ragusane presenti in fiera come il comune di Mazzarone e la sua rinomata Uva le eccellenze siciliane dunque nel capitale dell'ortofrutta col comune di Mazzarone danno il rinomato nel campo della viticoltura riflettori puntati però anche sulle aziende di trasporto della versante dell'Ippari La formazione professionale è nuovamente nell'occhio del ciclone la regione chiede infatti la restituzione di 7 milioni di euro mentre la Corte dei Conti cita in giudizio ex assessori e dirigenti la stragrande maggioranza degli enti non ha però alcuna intenzione di restituire i soldi stufi dicono di essere considerati dei malfattori e allora si va così verso l'inevitabile contenzioso con la regione siciliana operazione dei carabinieri oggi sul litorale ragusano rimossi i cancelli in ferro e in legno che impedivano l'accesso sugli arenili a caucane punta a braccetto e dopo la rimozione anche il sequestro si tratta dell'indagine partita l'estate scorsa ad agosto e che ha portato a questa prima trance di interventi la vigilanza e il controllo dei mitrati e l'arma provinciale proseguirà anche nella nuova stagione balneare amministrativa di maggio e scontro sui nomi dei candidati sindaci ufficializzati da territorio in vista appunto delle elezioni per Fabio Nicosia di Megafono una inopportuna fuga in avanti i nomi sono quelli di Giovanni Cosentini e Momo Carpentieri per Nicosia un'iniziativa che non può essere condivisa da quelle forze che lavorano oggi per i governi locali e che rappresentano tutti gli alleati a Ragusa zona industriale abbandonata all'incurio al degrado e i dati relativi a reati commessi negli ultimi tre anni sono allarmanti e c'è chi punta l'indice accusatorio contro l'ex Asi è una zona ormai messa nel buio e nelle tenebre perché dicono ci sono carenze nell'illuminazione pubblica e perché l'impianto di videosorveglianza ad oggi non è mai entrato in funzione e i danni alle imprese della zona ammontano ad oggi a circa un milione di euro ed è tutto grazie per l'attenzione appuntamento alle prossime edizioni a presto a presto